Ben trovati in Parferme, subito la domanda volevo porre a Paolo ma la estendo anche agli opinionisti e soprattutto agli ospiti. Alla luce però di queste prestazioni, che sono delle prestazioni dove la costanza mi sembra non sia prevista, a che cosa serve avere vari costruttori in Formula 1. È una domanda che va presa da una doppia ottica. Mi sembra che questo regime di monogomma stia riportando tutto in equilibrio al di là di quelle che sono le qualità intrinseche delle vetture. Allora a questo punto non conviene fare un monotipo come in Formula Indy dove c'è solo telaio dall'Ara. Un monotipo dice ad avere dei telaio tutti questi. Una sola macchina, un solo costruttore. Perché io non credo che onestamente McLaren e Ferrari possano andare più piano di una Williams. Non credo che siano diventati talmente bravi gli altri da mandare in crisi. Sì ho capito, questa è un po' una provocazione. È una provocazione. È una provocazione filo, come si potrebbe dire, filo Montezemus. No, sai che non parteggio. No, va bene, è una battuta la mia. Nel senso che onestamente è chiaro, vedere questa imprevedibilità che mette in discussione la ricerca che c'è dietro, cioè che c'è alle spalle di ciascun team, soprattutto quelli grossi, ti fa o mettere un interrogativo oppure un interrogativo molto forte, molto sostanziale. Vale la pena appunto avere tutta questa ricerca differenziale, cioè e avere ciascun costruttore che progetta e realizza dal proprio monoposto, invece che avere un monomarca. Ho capito quello che vuoi dire, però nello stesso tempo io la vedo sempre con il fatto che comunque abbiamo sì la Williams che ha vinto un Gran Premio con Maldonado, ma all'atto pratico comunque le squadre migliori sono sempre quelle, quelle che se la giocano. Comunque è un campionato aperto, ma al massimo è tra otto piloti, che sono comunque quelli delle quattro migliori squadre. Sarà difficile vedere una Caterham che sia un Gran Premio, quindi il divario c'è ancora. Se mai ti posso dire, questo potrebbe far invece velocizzare determinate tematiche, sul discorso ad esempio della terza vettura. Io sono più che altro propenso a vedere dei team che potrebbero utilizzare le vetture clienti, come più volte Montezemolo ha spinto in un certo senso in questa direzione. E ci credo, e quindi adesso vedi che subito non sono pro Ferrari. Con quello che guadagnano col corso cliente, con il restauro delle vecchie Formula 1, si pagano la stagione. Quello è logico. Ma se tu facessi con delle vetture clienti vendute all'HRT piuttosto che alla Caterham, secondo me si avrebbe un campionato con prestazioni più o meno simili e comunque con delle vetture che potrebbero anche avere delle prestazioni a fondo schieramento migliori rispetto a quanto non siano quelle dei costruttori singoli. Io comunque, e lo voglio chiedere sia ad Andrea sia a Davide, qualche dubbio me lo sto ponendo. Allora mi pongo i dubbi sulla validità dei vari progettisti e dei vari tecnici delle grandi squadre. C'è qualcosa che non mi torna in questa Formula 1, dove la gomma è addirittura più importante della vettura? Sì, come dicevo prima, in effetti è questo. Però ci sta una cosa che è chiara, come diceva lui prima, comunque i top team, le top squadre sono sempre quelle. Poi sì, c'è anche la Renault che sta venendo su bene, ma non ci dobbiamo dimenticare che comunque sia la Renault che la Williams sono motorizzate con il motore che è campione del mondo da due anni. Quindi non è che si sta parlando di realtà, come dicevamo prima, la Hrt, la Cater, ma che sono sempre nelle retrovie. Specifico, io adoro l'automobilismo inglese, per me la vera Formula 1, quella che mi ha portato poi a scegliere questo mestiere, è quella con i motori Cosworth, quindi non è un discorso contro la Williams. Se vince la Williams, se vincesse la Cater, anche la vera Lotus, io sarei l'uomo più felice al mondo. No, no, ma questo per dire che è inutile, è innegabile. Le gomme hanno un ruolo fondamentale per il setting della macchina, però si vede anche la differenza tra un pilota e l'altro, perché il pilota che è più bravo a preservare le gomme e l'ingegnere che è più bravo a fare delle scelte di gomme nel gestire quei set che ci sono, c'è la differenza. Credo in un certo senso, vogliamo definire in un modo sempre abbastanza provocatorio, è questo. La federazione ha cercato di trovare una chiave di volta nel poter, tra virgolette, gestire in maniera positiva il campionato. Nel senso, era impossibile vedere, se per tutti gli anni avevamo una Red Bull l'anno scorso che ti vinceva otto gare di seguito. La gente non aveva assolutamente più interesse. L'unico strumento libero, ma che può essere, tra virgolette, condizionato dal regolamento che ti chiede una certa specificità di gomme e di diversità tra le mescole e le costruzioni è appunto il pneumatico. Quindi fondamentalmente loro hanno detto, lasciamo perdere la ricerca dei team, forse con le gomme gestite in un certo modo riusciamo a dare quel pepe, quello spettacolo in più che altrimenti non ci riusciremo in nessun altro modo. Infatti, secondo me, il punto è che è proprio questo. Cioè, ci sono due approcci al monogoma, trasversalmente ai campionati di due e quattro ruote. Sì, sì, ma infatti è un discorso che va ampliato. Sì, perché poi sulle due ruote ovviamente forse è ancora più critico, essendoci meno superficie a disposizione su cui scaricare l'aderenza o i cavalli. Però effettivamente, se da un punto di vista, cioè la visione degli operatori da una parte, che sono gli imprenditori, i team, le case, eccetera, che forse, specialmente chi investe molte risorse umane e economiche, vede nel fattore gomme un'interruzione del percorso diretto che c'è tra quantità di investimenti e quantità di risultati. Perché è evidente che il monogoma, in qualche modo... Hai centrato il problema. Questo però... Faccio un esempio, tra virgolette, volgari. Come se la mia squadra del cuore, che è il Parma, vincesse con 20 punti di vantaggio lo scudetto sulla Juventus quando parte già con 80 milioni di budget cap a sfavore rispetto agli altri, allora gli altri non sanno lavorare. Dal punto di vista della dirigenza della Juventus, per utilizzare la tua metafora, è evidentemente una cosa che non va bene, perché dal punto di vista di un manager reale, imprenditoriale, tu vuoi sempre vedere proporzionalmente i risultati dei tuoi investimenti. Però attenzione, non dimentichiamoci che lo sport funziona, ha un impatto mediatico, perché crea spettacolo e fa entusiasmare le persone che guardano lo sport. Quindi dal punto di vista invece dello sportivo, che va nelle piste, va sulle tribune o guarda in televisione, lo sport in realtà è un vantaggio, ahimè. Ahimè, nel senso che io sto dalla parte degli operatori, che vorrebbe vedere più, come si dice, proporzione tra le forze in campo. Però dal punto di vista della spettacolarità ci guadagna. È già successo questo. Nelle moto, di solito la moto arriva dopo la Formula 1 e parecchio. Questa volta è arrivata prima, con la moto 2, dove c'è il monomotore. E ci sono dei... Beh, quello c'è anche nella GP2 e nella GP3. Però quello... Anzi no, è venuta molto prima la GP2 della moto 2. Però c'è categoria mondiale... Ma anche la GP2. È la stessa cosa. GP3 e GP2 le devi fare corrispondere a moto 3 e moto 2. Beh, la chiamate così per quello. Però lì hanno fatto un esperimento che dice, usiamo il monomotore e il monogomma. Incominciamo a stringere sempre di più. Telai liberi. Questa è una formula che è piaciuta. È molto divertente da vedere. La moto 2 è la classe più divertente. Però è anche una classe che emoziona molto poco. Ha pochi investimenti. Poi c'è anche chi ha fatto un altro discorso. Quello di usare addirittura un motore unico in MotoGP. C'è stata una proposta, credo, arrivava dalla Ducati, un po' trasversale. Ed era una proposta di dire, usiamo tutti lo stesso motore. Qui però cosa succede? Perde tutto il fascino, secondo me. Già limitare molto le caratteristiche del motore. Adesso in MotoGP si usano 4 cilindri, all'esaggio 81. Ci somigliano un po' troppo queste moto. Nessun costruttore può usare una propria filosofia specifica. C'è un altro aspetto, secondo me, Marco, relativamente a quello che hai detto. Al di là della singola opinione sul pathos di un monomotore, piuttosto che di tante case impegnate. Le corse sono, come si dice, uno strumento del marketing. Perdonatemi la freddezza dell'affermazione. E quindi vengono finanziate fondamentalmente con la visibilità che si crea o al brand che è impegnato nelle corse o agli sponsor che supportano il brand. Ovviamente se non c'è più una distinzione di brand, cade anche, secondo me, il supporto economico, o perlomeno il potenziale supporto economico, può essere di gran lunga ridotto rispetto a quello che oggi. Questa è un'insidia. Adesso vi interrompo, se sarebbero anche le pagelle del Gran Premio di Valencia, io so che andrò a litigare con qualcuno. Perché io vado sempre a litigare, soprattutto con Fabio Di Palma, che è molto timido oggi. E' triste perché Maldonado si è preso la penalizzazione a fine gara. Andiamo subito a vedere le pagelle e poi torniamo in studio. Fernando Alonso, voto 10. Dopo la delusione delle qualifiche, complice a una scelta errata nella Q2, si riscatta completamente. Vince e convince. E' il nuovo leader in classifica con 20 punti sul primo inseguitore. Furia Rossa. Sebastian Vettel, voto 9. Paul è gara superba fino al momento del ritiro. Meriterebbe di condividere il massimo dei voti con Alonso, ma la sua RB8 lo tradisce e la sua gara finisce al 34esimo giro. Yellato. Kimi Raikkonen, voto 8. Non sbaglia, è veloce e porta la macchina al traguardo, ma per vincere gli ha richiesto qualcosa di più. Iceman, troppo freddo. Michael Schumacher, voto 7. Una gara senza sbavature, cerca di compiere il suo dovere fino in fondo e dalla fine ci riesce. Coglie un po' di un aspettato che lo premia, quantomeno per la costanza. Bentornato. Lewis Hamilton, voto 6. Veloce e combattivo, non c'è che dire. In certe circostanze forse troppo, ma non nel caso della collisione con Maldonado. Lì, per i commissari, la colpa era del venezuelano. Casinista. Felipe Massa, senza voto. Si impegna, ma i risultati non arrivano. Inoltre, ci si mettono anche le collisioni a peggiorare una gara che avrebbe potuto concludere a punti. Se Fernando è Gastone, lui ricorda Calimero, pulcino nero. Sì, mi è piaciuto. Su Massa si è stato... ha fatto una buona gara, però gliene sono capitate di tutti i colori. E come mai? Maldonado che voto gli diamo? Eh, beh, insomma... basso dai. Basso. Basso perché... Partiva davanti e poi è stato indietro. Sì, un 5 e mezzo. 5 più, 5 e mezzo. Un 5 e mezzo. Esatto, piuttosto con Marco Masetti e credo anche Davide Uboldi perché sta entrando in quella generazione, mi sembra il Setta-Schumacher sia troppo basso. Perché i quarantenni che vanno a correre con la Formula 1 moderna e vanno a podio al di là della casualità probabilmente di questo risultato dimostrano di esserci ancora. Assolutamente d'accordo. Cioè penso che fermarsi, iniziare con delle macchine totalmente diverse e non dimentichiamoci, fare la pole che poi a Monte Carlo è già incommiabile. Quindi non per niente è il campione del mondo più titolato di tutti i tempi. Quindi complimenti a lui e sicuramente io qualche punto in più glielo darei volentieri. Poi tutte le altre pagelle sono perfette sicuramente. Anch'io è la prima volta che ho fatto il tifo per Schumacher in tutta la mia vita. Se non era per Maldonado non... Esatto, va bene, però... Di palma guarda, contro Massa, contro Schumacher e contro tutti. Lui è... vai Sudamerica, vai Sudamerica e ci si vede. No, 7 poteva essere bravo, 7 più, nel senso che era un incoraggiamento. A tra poco.